eccoci qua ben trovati io sono alla biblioteca don siro butelli di lamporecchio insieme a due amici che abbiamo già incontrato l'anno scorso a borgo a mozzano guardateli qua zacchete davide contrucci simone corrieri mi ricordate il libro faccelo vedere eccolo zacchete qua niente è possibile quindi niente è stato davvero impossibile per voi siete partiti da borgo a mozzano l'anno scorso avete fatto tante presentazioni una canzone chi me ne parla tanto le presentazioni sono state diverse ci siamo divertiti e abbiamo anche siamo riusciti anche a presentare il brano in una manifestazione canola vero vero vi ho seguito si è riuscito anche nel suo sogno quindi era cantare te volevi cantare davide vero si si e ce l'hai fatta e ce l'hai fatta e io ti ho seguito si è andata anche benissimo ma io sono curioso della copertina del libro di chi era la pina la pina è del mio cuirino in quanto l'ho rubata al mio credito l'hai rubata il tuo cugino e devo essere sincero sono un ladro onesto perché poi gliene ha ridotto ah ho capito intanto l'abbiamo presa in prestito senti ricordiamo come nasce questo questo libro nasce perché l'incontro con lui è stato talmente bello e naturale che poi ci siamo messi giù per scrivere un libro lui voleva fare una canzone poi dalla canzone è nato anche il libro è nato anche il libro davide ma diciamoci la verità il grande capo orchestrate sei stato te è vero sì oh finalmente quindi eri te che praticamente guidavi simone nella stasura del libro vero sì senti ma che hai anche la passione dei motori mi sbaglio no sì non mi sbaglio perché ogni tanto mi arriva qualche qualche link da 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 ho fatto un fans club davidontruggi fans club vero online è una grande passione anche per la comunicazione perché mi ha detto voglio aprire una tv vero sì e se l'andate a seguire mi fate molto piacere dai dici qual è fans club davidontruggi ok simone senti come proseguirà la vostra il vostro percorso con questo libro proseguirà perché è prevista una nuova presentazione intorno a metà aprile metà aprile a castelnuovo a castelnuovo mentre proprio stamani la presentiamo qui esatto qui all'amporecchio ma continuerete a scrivere davide se allora avete già deciso e questo è un anteprima avete già deciso se simone ha voglia simone no simone non è un birbante simone te lo devi pressare lo devi pressare senti avete una pagina vostra del libro giusto lo facciamo rivedere infatti il libro sul titolo niente è impossibile niente è impossibile davide contruccia davide contruccia e simone corrieri allora vi dico grazie mille per avermi invitato anche stamani noi ci rivediamo fra un anno sono sicuro con un libro nuovo ciao 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 ciao